Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 11 settembre 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo capricorno? Tutto in una sola giornata non ci sta? Quante velleità cullate quest'oggi, fare una splendida figura a un meeting o a un colloquio di selezione, superare un esame universitario tostissimo, concludere una trattativa o una breve trasferta per tornarvene finalmente a casa tra le braccia di chi amate, ai vostri occhi ancora più desiderabile ora che la bella venere allo zenit ne mette in luce il lato migliore. Prezioso alleato anche mercurio in vergine, segno di terra, pragmatico, razionale, laborioso come il vostro e altrettanto paziente. Peccato che non lo sia anche la luna, che scalpitando in dodicesima casa fa del suo meglio per innervosirvi e quando si comincia a irritarsi, ecco che il disegno armonico della giornata comincia a pendere da una parte o dall'altra, le linee si cancellano, i bi e i colori si annacquano. Ma qui non c'è nulla che possiate aggiustare con la fantasia, che oggi non solo non vi aiuta, ma vi porta fuori strada. Tornate coi piedi per terra e vi sentirete subito più calmi e sereni. Una coppia molto unita, i partner si amano e pensano al futuro. Coppie che trovano equilibri nuovi e interessanti per far crescere il proprio amore. I single possono sperare di incontrare persone giuste che li amaranno e sapranno creare le condizioni per unioni molto forti. Momento sbagliato per chiedere prestiti o piccole agevolazioni, Giove non vi aiuterà in questo. Rinviate richieste a tale proposito, soprattutto se si tratta di mutui. Non fate vincere la vostra gelosia, accantonate pensieri stupidi di tradimenti. Siate più disinvolti con il vostro partner e non vendicatevi di alcune piccole situazioni che vi ha creato. Potreste pentirvene. Non sei molto contento della tua vita, adoperati da subito per cambiare partendo dalle cose piccole e non cercare di strafare. State vicino ad un amico che sembra aver bisogno di voi, i vostri consigli, la vostra amicizia, il vostro calore gli servirà più di ogni altra cosa o aiuto. Vi ripagherà con tanta ma tanta sincerità. Non confidate oggi i vostri segreti a nessuno, potrebbero utilizzarli contro di voi e per farvi danni, anche se non subito. Giorno ideale per chiedere consigli alle persone giuste. Ascolta gli altri con più attenzione. Il fatto che oggi Giove sembra schierato dalla vostra parte non significa che siete onnipotenti o che potrete permettervi il lusso di non riflettere su ciò che state facendo. Bene gli acquisti di ogni tipo. Ottimo accordo con Gmelli e Acquario. Cambiamenti fortunati. Nuove idee che frutteranno bene in futuro. Possibile nn nuovo inizio in una diversa direzione. Mostrati sicuro e convinto anche di fronte alle difficoltà evidenti. Non arrenderti. fai del bene a qualcuno che ne ha davvero bisogno. La situazione astrologica è per voi molto positiva, con molte forze planetari dello Zodiaco in posizione benefica. In particolare Mercurio nel segno amico fidato della Vergine, vi crea alcune distrazioni e vi aiuta nello scioglimento di nodi in campo familiare, specie se nascete dal 26 al 31 di dicembre. Urano vi riporta l'allegria di una vita sociale effervescente e spensierata. Nettuno, pianeta del benessere emotivo, vi favorisce nelle lunghe passeggiate solitarie che, spesso, stimolano in voi la concentrazione, se festeggiate il compleanno nella seconda decade. E se siete nati in dicembre, è la musica a darvi una sferzata di energia e di autentico dinamismo. Ogni situazione in bilico si aggiusta grazie alla vostra fermezza razionale e alla capacità di portare concordia in casa. L'amore vi picchia in testa, magari a una semplice cotta di cui l'oggetto delle vostre brame non è nemmeno a conoscenza. Ipotesi verosimile con la luna idealista ma timida e imbranata in dodicesima casa, mentre Venere ambiziosa si presenta allo Zenit come su una passerella. Un conto però è apparire, un altro essere per un segno introspettivo come il vostro l'apparenza e una meteora, la sostanza una realtà perenne. La cura ve la propina l'amico Mercurio in vergine, segno di terra intrigono al vostro, per giunta illuminato dal sole della sapienza. Nei libri, nei viaggi troverete ciò di cui avete bisogno, se le attese del cuore finiscono con una delusione, le aspettative della mente vengono tutte corrisposte. Amore ed Eros. Attenti a non identificare il partner o la persona a cui pensate sempre più spesso con un bel quadro, un gioiello, un oggetto prezioso da sfoggiare. Fa parte del vostro carattere ambiziosi puntare in alto, cercando di ottenere il massimo in tutti i settori, non ultimo l'amore. Se qualcuno ha deluso le vostre aspettative non vi date per vinti, rimanete in silenzio per un po' ma poi. Fate in modo che la vostra assenza venga notata. Il vuoto a volte pesa più del pieno, la mancanza si urla più dell'abbondanza. Messaggi o telefonate da persone conosciute in vacanza, con le quali avete instaurato fin da subito un rapporto complice, si progetta già la prossima scarpinata o un tour tra antichi borghi e vestigia storiche, guarda caso proprio la vostra passione. Lavoro e denaro? Molto da fare tra esami, corsi e colloqui di selezione. Domani poi riprenderanno anche le lezioni a scuola, dunque un gran da fare sia per gli insegnanti, sia per gli studenti e se appartenete a una di queste categorie cominciate a rimboccarvi le maniche. Talento artistico da non lasciare nel cassetto, a settembre si aprono le iscrizioni a tanti b e i corsi del tempo libero, gli argomenti più disparati alla merce di chiunque abbia una curiosità o voglia coltivare un interesse. Costicchiano mari e impiono anche le serate e per chi ha difficoltà a socializzare promuovono belli incontri. Trattative in corso col mercato estero, conoscendo la vostra bravura finirà che anche stavolta i capi manderanno voi. Benessere. Basta impigrirsi con la scusa dello studio, che ne sul computer o sulla scrivania, non vorrete per caso somigliare a Leopardi vero? Subito in palestra, a correre, a scarpinare, a lavoro poi, finché il tempo tiene, non andateci con i mezzi, ma a piedi o in bici. Sul tragitto potete dare un'occhiata alle vetrine, gettare lo sguardo su qualche bel monumento che magari non avevate mai notato, si vive una vita in una città e non la si conosce mai abbastanza. Per lei, Iave Adrem disse Martin Luther King, voi invece di sogni ne avete tanti e tutti impegnativi. Solo una costanza al pari della vostra potrà tradurli in realtà, ma se continuate a crederci accadrà. Per lui, espletato l'impegno lavorativo che anche oggi vi ha condotti a viaggiare, vi è avanzata quasi mezza giornata per godervi le bellezze della città e magari fare qualche acquisto, un regalino per i vostri bimbi, una sfiziosità tipica del luogo. Rientro in ritardo ma col sorriso. Colore delle emozioni, indaco. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.